D-book, sicuramente molti di voi avranno già sentito questa parola e vi sarà capitato molte volte, specie per gli appassionati di paranormali e oggetti maledetti, di trovare in rete video o storie riguardo queste misteriose scatole che si dice siano infestate da spiriti maligni. Ad ogni modo oggi non vi parlerò di una delle tante che circolano in rete, ma bensì della prima e vera scatola d-book che se ve lo state chiedendo sì esiste ancora, ma prima di scoprire dove si trova oggi è fondamentale ripercorrere la sua storia, ma soprattutto capire nel dettaglio di cosa si tratta. Ciao anime amanti del mistero, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Come vedete non sono sparita, ma diciamo che ho avuto uno stop forzato. Queste due settimane in famiglia tra un'influenza e l'altra, impegni che mi hanno portato via moltissimo tempo ed energia, diciamo che non sono proprio riuscita a sedermi qui a registrare. Poi a dire il vero, come ho specificato nel posto in community in questi giorni, non sono stata bene neanche io, infatti diciamo che mi trascino questi sintomi influenzali da tipo due settimane. Ma amici mettendo un attimo da parte i malagni stagionali, prima di addentrarci nella storia di oggi ci tengo a presentarmi per chi è la prima volta che vede o apre un mio video. Io sono Sabrina e sul mio canale racconto storie, leggende, casi misteriosi a sfondo paranormale, ma affronto anche temi spirituali ed esoterici. Se questo tipo di contenuti vi possono piacere mi raccomando cliccate il tasto iscriviti per chi ancora non l'ha fatto e al termine di questo video date anche un'occhiata nella playlist del canale perché sono sicura che troverete qualcosa di interessante e misterioso. Ma tornando a noi e al motivo per cui oggi mi sono seduta qui, qualche settimana fa mi sono imbattuta in una storia davvero molto interessante che in realtà in passato avevo già avuto modo di leggere da qualche parte ma non sono mai andata ad approfondire l'argomento. Questa volta però ho deciso di approfondire meglio alcuni punti trovandoli poi davvero molto interessanti e ovviamente non potevo non condividerlo con voi. La scatola di book conosciuta e descritta come una scatola o contenitore che al suo interno racchiuderebbe un demone diciamo che non è proprio corretto perché se poi si va ad analizzare meglio cos'è un di book si fa in fretta a capire che non è di demone che si parla ma piuttosto di spirito maligno. E sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo ma scusa demone e spirito maligno non sono mica la stessa cosa? Assolutamente no ma prima di spiegarvi questa differenza vi spiegherò cos'è un di book. D book deriva da un'antica parola ebraica che significa aggrapparsi. Nella metodologia ebraica esso viene identificato come uno spirito maligno o l'anima perduta di una persona morta. stando sempre alla tradizione ebraica in accordo con le credenze popolari questo spirito è in grado non solo di impossessarsi degli oggetti ma anche di esseri viventi. Secondo questa tradizione queste anime generalmente vagherebbero per il mondo poiché mancherebbe loro la forza di passare oltre e proprio per questo motivo si attaccherebbero al corpo di una persona influenzando la sua vita per portare a termine ciò che diciamo non sono riusciti a fare da vivi oppure in alcuni casi rimangono intrappolati in un oggetto finché poi qualcuno non gli aiuta appunto a liberarsi. Un di book generalmente abbandonerebbe l'essere ospite quando riesce a portare a termine i propri obiettivi a volte dopo essere stato aiutato poi diciamo che l'essere influenzati da un di book non sarebbe una condizione tanto desiderabile o buona e spesso questo è in contrasto con le leggi divine infatti la persona fisica ospitante subirebbe conseguenze non ottimali per esempio non riuscendo a vivere la propria vita e la propria identità nonché il proprio percorso spirituale proprio come magari sarebbe accaduto se di book diciamo non si fosse presentato. Su questo punto amici ho voluto fare alcune ricerche per capirci meglio riguardo proprio questa credenza e pare che per far uscire questo spirito dalla persona in cui dimora ci sarebbero delle complesse procedure da seguire che si troverebbero esclusivamente in alcuni tesi cabalistici e possono essere eseguiti solo da esperti cassidici. Nella tradizione cassidica infatti solo un potente rabbino che può operare miracoli noto come Behal Sem non so se si pronuncia così che può espellere diciamo anche il più malvagio dei di book mediante un vero e proprio rituale di esorcismo che prevede la presenza di nove uomini ebrei più il rabbino. La celebrazione del rito consisterebbe nello spaventare il di book per poi dialogarci nel tentativo di fargli comprendere che deve andarsene. Durante la celebrazione il gruppo dei dieci uomini circonderebbe il posseduto e reciterebbe ripetutamente versetti di un salmo specifico e il rabbino suonerebbe anche un sofar in un modo particolare facendo così spaventare sia il di book che la persona posseduta provocando così poi la separazione dei due. Fatto ciò il rabbino cercherebbe di parlare con il di book per capire se le sue intenzioni sono quelle di possedere diabolicamente un essere umano e infine il gruppo dei dieci uomini inizierebbe una serie di preghiere per il posseduto portando poi così a termine il rito. Ma quindi la scatola di di book conterrebbe uno spirito maligno o un demone? Come si avvince dalla descrizione il di book viene identificato come spirito maligno e non come demone proprio perché effettivamente sono due cose completamente diverse ma quali sono le differenze? Ovviamente ciò che vi spiegherò amici è basato sempre su quelle che sono le mie credenze ricerche e studi personali. Non sono qui per fare scuola a nessuno ma sapete che mi piace condividere con voi i miei pensieri. Se poi ci si ritrova a pensarlo uguale è ancora meglio ma se così non fosse nessun problema. Ci tengo anche a precisare che in realtà ci sarebbe da fare un lungo elenco perché di spiriti ci sono diverse categorie ma non andrò ad approfondire questo discorso perché qui non ci interessa. La cosa che ci tengo a fare è solo distinguere demoni da spiriti maligni perché spesso e molto volentieri si tende a confonderli. Gli spiriti maligni in sostanza sono spiriti invidiosi dell'essere umano perché a differenza loro possiedono un corpo. Ma perché si trovano sul nostro piano? Allora gli spiriti maligni rimangono sul nostro piano perché non vogliono lasciare andare l'odio che diciamo hanno provato magari in punto di morte. Provano piacere a fare del male e creano disordine ma non come i demoni che invece essendo molto subdoli preferiscono dare libero sfogo alla loro aggressività. Ad ogni modo un esempio di spirito maligno è il poltergeist. I demoni invece sono creature del piano astrale che nascono nel momento in cui i sentimenti negativi degli esseri umani come rabbia, paura, frustrazione, dolore e così via in punto di morte lasciano l'anima della persona ed entrano nel piano astrale. Inizialmente si formano sotto forma di una piccola larva più comunemente chiamata larva astrale che poi piano piano che accresce il suo potere cipandosi sempre appunto delle stesse emozioni di cui è fatto va a formarsi un demone. Quando questo avviene avrà raggiunto il massimo delle sue forze e quindi tenderà a possedere le persone più deboli e per debolezza intendo quella caratteriale. Qui apro e chiudo una parentesi anche i portali di demoni e spiriti sono diversi. Infatti i demoni a differenza degli spiriti non possono aprire portali da soli ma devono aspettare che qualcuno li apra per loro in modo consapevole o meno. Ovviamente qui il discorso è molto lungo e molto ampio ma non voglio andare oltre altrimenti come al solito esco troppo fuori dalla storia anche perché diciamo che l'argomento portali è molto ampio come anche appunto il discorso delle categorie di spiriti. Come ho detto all'inizio ovviamente ci sarà qualcuno che si discosterà completamente da ciò che ho detto ma non importa sapete che io vi trasmetto solo ed esclusivamente cose in cui credo e alla quale diciamo ho dedicato molto tempo e passione nelle varie ricerche e approfondimenti. Come dico sempre tutti siamo liberi di credere a ciò che vogliamo l'importante è rispettare il pensiero altrui ma comunque per come la penso io poi diciamo al di là delle proprie credenze eccetera se una cosa ci colpisce incuriosisce o attira la nostra attenzione vale comunque sempre la pena diciamo approfondire l'argomento. Ok chiusa questa piccola parentesi mi sposterai nuovamente sull'argomento d'ebook. Ad oggi pare appunto che la maggioranza degli ebrei non creda più alla presenza dei d'ebook tranne appunto la comunità cassidica che invece ancora oggi pare che celebri rituali esorcistici proprio su questi spiriti. Inoltre stando sempre le mie ricerche non si conoscono le reali origini ma comunque il termine d'ebook pare sia apparso per la prima volta nelle comunità ebraiche in polonia e in germania nel diciassettesimo secolo dopo cristo portando poi con sé la famosa credenza che il d'ebook può nascondersi o meglio dire può essere rinchiuso in una scatola di legno chiamata kufsat d'ebook e che se questa poi venisse aperta per sbaglio lo spirito maligno presente appunto al suo interno potrebbe prendere possesso del malcapitato. Proprio da questa credenza amici nel 2012 è stato tratto un film dal titolo The Possession. Magari anzi quasi sicuramente qualcuno di voi l'avrà già visto. Ad ogni modo questo film segue la storia di una giovane ragazza che acquista una scatola d'epoca in un mercato delle pulci che ospita per l'appunto un antico spirito maligno della tradizione ebraica. Tuttavia ciò che pochi sanno è che questo film è tratto da una storia realmente accaduta. Molti sono scettici sulle storie vere dei film horror ma a questo racconto ci sono delle teorie testimonianze che dimostrerebbero la veridicità della storia che si nasconde dietro questo film. Infatti Kevin Mannis il primo acquirente della vera scatola d'ebook certifica che i fatti che tra poco vi racconterò sono reali e che possono addirittura essere verificati attraverso vari documenti. Ma di quali fatti parla Kevin? Per capire meglio il tutto bisogna partire proprio da lui e dalla sua esperienza con questa misteriosa scatola. Kevin Mannis era un antiquario che possedeva un modesto negozio alla periferia di Portland in Oregon. Era particolarmente affezionato a piccoli oggetti rari e facili da rivendere e di solito li trovava in piccole vendite organizzate da privati. Nel settembre 2001 Kevin partecipò a un'asta organizzata da una famiglia la cui nonna era morta all'età di 103 anni e i suoi averi erano stati raccolti in lotti ed erano stati poi presentati su diverse piattaforme. Tra i tanti lotti li presenti uno in particolare aveva attirato subito l'attenzione di Kevin e si intesserdì che doveva essere suo a tutti i costi. Tuttavia non fu difficile per lui ottenere l'intero lotto visto che le persone lì presenti decisero di mollare il colpo quando capirono che il buon Kevin non avrebbe mollato così facilmente. Infatti fu così che il lotto numero 35 viene assegnato proprio a lui. Indubbiamente era felice, aveva acquistato oggetti che valevano diverse centinaia di dollari e tra queste c'erano alcune rarità. C'era infatti un vecchio baule da viaggio, una vecchia scatola da cucito e una strana scatola chiusa con un lucchetto. Terminato l'evento Kevin prende i suoi oggetti e si sposta nel giardino della villa e prima di mettere tutto in macchina decide di dare un'occhiata veloce agli oggetti soffermandosi curioso sulla scatola con il lucchetto. Inizia a girarla in tutte le direzioni per capire se c'è un modo effettivamente per aprirla senza rompere il lucchetto. All'improvviso una voce si leva dietro di lui e afferma vedo che hai comprato la scatola D-Book. Kevin immediatamente si volta e trova una giovane donna sulla trentina che lo guarda immobile sui gradini della casa. Ad ogni modo Kevin non reagisce alla parola D-Book anche se essendo ebreo sapeva benissimo cosa fosse. Infatti dove era cresciuto lui gli anziani lo usavano spesso per spaventare i bambini un po' come accade da noi con il lupo nero. In ogni modo Kevin alle parole della giovane annuisce e basta senza fare domande ma la donna inizia a raccontargli che quando era piccola sua nonna teneva sempre quella scatola nella sua stanza da cucito in un posto inaccessibile. La chiamò la scatola di D-Book e se qualcuno le chiedeva cosa ci fosse dentro l'anziana signora sputava tre volte tra le dita ed esclamava un D-Book un Kesselim. L'anziana signora disse anche che quella specie di cantinetta dei vini non avrebbe mai e poi mai dovuto essere aperta. Parole che la giovane decise di condividere con Kevin che alle sue parole iniziò a sorridere quasi divertito affermando che quelle erano solo sciocche superstizioni locali. La donna comunque continua il suo racconto e gli parla ancora un po' di questa donna nonché la proprietaria degli oggetti che Kevin possedeva. Forse questo fu il motivo poi che lo spinse a sedersi curioso ascoltando ciò che la ragazza aveva da dirgli. Stando alle parole della giovane la defunta era nata in Polonia dove era cresciuta poi si sposò e mise su famiglia prima di essere mandato in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale e di tutti i membri della sua famiglia lei era stata l'unica a salvarsi. I suoi genitori, i fratelli, la sorella, il marito, i due figli e la figlia erano tutti morti nei campi. Così sopravvisse e fuggì con altri prigionieri in Spagna, luogo dove aveva vissuto fino alla fine della guerra. E fu proprio in Spagna che comprò la scatola del vino, uno dei tre oggetti che aveva portato con sé quando era emigrata negli Stati Uniti. Gli altri due oggetti erano il baule e la scatola di cuscito che facevano sempre parte dello stesso lotto acquistato da Kevin. Inoltre questa donna avrebbe voluto che la scatola fosse sepolta con lei ma questo desiderio era contrario alla consuetudine quindi la sua richiesta diciamo che non poteva essere onorata. Kevin a quel punto suggerì alla giovane di aprire con lui la piccola cantinetta ma lei fu irremovibile sul fatto che questa donna non voleva che la scatola fosse aperta e lei voleva in qualche modo rispettare i suoi desideri. In quel momento Kevin si sentiva un po' a disagio, non riusciva a capire chi fosse per lei questa donna visto e considerato che dalle sue parole aveva intuito che quell'oggetto doveva essere un ricordo sentimentale importante per lei. Ad ogni modo la prima cosa che diciamo venne distinto a Kevin fu quella di restituire questa scatola appunto alla ragazza ma alla sua afferta la giovane donna rispose con convinzione che ormai l'aveva comprata lui e che quindi era ormai diventata sua. Kevin sospettando un errore le disse che non c'erano problemi e che non voleva soldi indietro ma la giovane a quel punto diciamo che non si dimostrò molto entusiasta di questa proposta anzi sembrava quasi sconvolta, arrabbiata, infastidita. Infatti diciamo che questa ragazza non reagì come Kevin pensava anzi si è girato verso di lui gridandogli in faccia e dicendogli ormai l'hai comprata e hai fatto un patto. Ad ogni modo Kevin cercò di spiegarsi ma lei iniziò ad urlargli contro e a piangere ma che diavolo stava succedendo ma soprattutto chi era questa donna per questa ragazza? A quel punto Kevin raccoglie tutti gli oggetti li mette nel retro del suo furgone e se ne va veloce. Scelta saggia. Ad ogni modo una volta arrivato in negozio Kevin sistema la piccola scatola nel seminterrato, luogo adibito, magazzino, laboratorio e la posiziona sul tavolo. Decide poi che era arrivato il momento di guardarla. Quindi cerca di capire come aprirla e diciamo che normalmente avrebbe tagliato il lucchetto ma in quel caso preferì girare il chiavistello e strapparlo delicatamente con un piccolo cacciavite. A quel punto il pezzo di ottone cadette e all'improvviso le ante si aprirono da sole e decisamente Kevin non se l'aspettava. Quando una delle ante veniva toccata il meccanismo azionava contemporaneamente l'anta opposta e il piccolo cassetto sottostante. Beh questo sicuramente era un dettaglio che aumentava il valore dell'oggetto che all'inizio a Kevin gli pareva un po' diciamo poco attraente alla vista. Tuttavia ciò che Kevin scoprì all'interno della scatola lo sorprese parecchio. Infatti trovò due penni uno del 1925 e uno del 1928 insieme ad un piccolo calice da vino dorato e uno strano candelabro che poggiava su gambe a forma di polpo. Inoltre sul fondo della scatola c'era anche una specie di piccola stella di granito su cui era incisa la parola Salom in ebraico e dietro questa stella c'erano anche due ciocchi di capelli uno di capelli biondi e uno di capelli castane. Tuttavia questo dettaglio seppur inquietante non turbò più di tanto Kevin che in quel momento pensò semplicemente che l'anziana signora avesse tenuto i capelli diciamo per motivi sentimentali. Per lui diciamo che quella piccola scatola di vino era molto ordinaria insomma nulla di spaventoso. Ma ora andiamo avanti con la storia. Da qualche anno Kevin aveva assunto una giovane donna di nome Jane Overton. Jane era una commessa perfetta imparò molto velocemente il lavoro e sembrava le piacesse anche molto. Spesso Kevin preso appunto da altri impegni le lasciava anche in gestione il negozio per giorni cosa che successe proprio quel giorno che Kevin portò la scatola in laboratorio. Infatti lasciò il negozio in mano alla ragazza perché aveva appunto delle commissioni urgenti fuori città lasciando così la scatola nel seminterrato del negozio. Jane scese nel seminterrato per riordinare alcuni oggetti sugli scaffali e finito e sistemato tutto quello che c'era da sistemare si diresse verso le scale per tornare al piano di sopra quando all'improvviso riuscì ad avvertire una strana presenza alle sue spalle. Continuava a sentirsi come se qualcuno diciamo la stesse osservando eppure lei era abituata a lavorare in quel seminterrato aveva persino trascorso ore intere lì senza mai provare nulla di strano. Secondo lei c'era qualcosa che non andava la giovane donna infine spense la luce e iniziò a salire le scale ma all'improvviso un rumore attirò la sua attenzione e tornò così sui suoi passi. Qualcuno si nascondeva nel seminterrato. Stava camminando lungo i corridoi al buio quando la luce che aveva appena spento si riaccesa all'improvviso. Poi schegge di vetro in frantumi risuonarono forte e una sedia si rovesciò davanti a lei. Jane spaventatissima incredula da ciò che aveva appena visto si precipitò immediatamente al piano di sopra per telefonare a Kevin. Mentre pregava che lui rispondesse al telefono il prima possibile sembrava che qualcuno al piano di sotto stesse distruggendo tutti gli oggetti con una mazza. Meno male Kevin risponde quasi subito al telefono e dall'altra parte sente Jane con il fiatone spaventatissima che urla dicendo che c'era qualcuno nel laboratorio del seminterrato. Infatti proprio in quel momento lei diceva che sotto di lei poteva sentire il rumore dei vetri che si rompevano e sembrava che qualcuno stesse lanciando oggetti dall'altra parte della stanza. Kevin a quel punto per assicurarla gli dice di chiamare immediatamente la polizia e che lui sarebbe stato lì a momenti ma proprio mentre stava pronunciando queste parole il suo cellulare improvvisamente si spegne. A quel punto Kevin preso un po' dal panico e preoccupato per la ragazza si affretta per tornare immediatamente in negozio. Dalla telefonata all'arrivo di Kevin in negozio passano più o meno 20 minuti infatti Kevin si trovava fuori città e insomma ci voleva del tempo ad arrivare in negozio. Ad ogni modo arrivato si direse immediatamente verso la porta del seminterrato. Scese le scale entrò in questa stanza buia allunga il braccio per accendere la luce ma non si accende. Decide così di prendere una torcia addentrandosi cautamente nella grande sala e improvvisamente sente un fetore terribile che aleggiava per tutta la stanza ma non solo perché nota pezzi di vetro sparsi per i corridoi e si rende subito conto che tutti i tubi al neon erano stati distrutti. Improvvisamente la sua torcia illuminò un volto e Kevin sobbalza dallo spavento. Jane era lì in piedi al buio con gli occhi pieni di lacrime e completamente immobile. Cioè Jane era stata lì ferma e immobile per 20 minuti. Ad ogni modo alla vista di Kevin improvvisamente la ragazza senza dire una parola si precipita sulle scale correndo per poi sparire per sempre senza dare spiegazioni su quanto accaduto e pare che appunto dopo due anni di lavoro per Kevin non è più tornata in negozio nonostante Kevin provò poi a chiamarla più e più volte ma lei comunque lo ignorò. A quel punto Kevin non riusciva a capire cosa fosse successo cercò di ragionarsela da solo e arrivò alla conclusione che non c'erano porte di accesso al seminterrato né uscite di emergenza né pozzetti per finestre quindi chiunque fosse stato il responsabile di tutto quel casino doveva essere per forza lì dentro. Dal momento che non riuscì a trovare nessuno e anche se diciamo si sentiva dispiaciuto per lei Kevin arrivò a pensare che Jane fosse la colpevole. Secondo lui infatti non ci potevano essere altre spiegazioni. Ad ogni modo per quanto assurdo le appariva questa situazione decise di non pensarci più ma soprattutto di non farne parola con nessuno. Lui stesso non aveva ancora capito cosa fosse successo all'interno del suo negozio e voleva appunto prendersi del tempo per analizzare meglio la situazione. Passano i giorni e si avvicina al giorno del compleanno di sua madre ovvero Ida Mannis. Kevin per quel giorno pensa di portarla al ristorante e di farle un regalo speciale e diverso dal solito. Un regalo che secondo lui avrebbe apprezzato molto visto che come lui amava gli oggetti particolari ed è così che decide di regalarle la famosa cantinetta dei vini. Inizia quindi premurosamente a pulirla e lucidarla proprio per l'occasione ma quando arrivò il giorno sua madre Ida lo chiamò per fargli sapere che sarebbe partita per un viaggio di tre giorni e che avrebbe festeggiato il suo compleanno al suo ritorno. E il 31 ottobre 2001 Ida si presentò in negozio dal figlio molto presto ben prima dell'apertura e dopo aver salutato suo figlio calorosamente si avvicina a una delle poltrone messe in ventita, si siede comodamente e inizia a raccontargli entusiasta del suo viaggio che appunto le sue amiche le avevano regalato. Facendole sapere che il suo regalo era il più originale Kevin posa il pacchetto che aveva accuratamente incartato su un tavolino di fronte a lei e iniziano a strappare la carta. L'anziana signora era abituata all'eccentricità del figlio che le aveva già regalato strani oggetti in passato ma sicuramente non così strani come questa piccola scatola di vino. Tutto ad un tratto il telefono squilla nel semi interrato e Kevin scende al piano di sotto nel suo ufficio. A quel punto Ida curiosa di scoprire il suo regalo si china per esaminare il piccolo scrigno ed è in quel preciso momento che avverte una sensazione strana. Infatti avvertì la sensazione come se anche questo scrigno la stesse osservando. L'anziana si alzò accarezzò il legno facendo scivolare la mano sui simboli ebraici incisi sul retro dell'oggetto poi premette le porte il cassetto e all'improvviso la scatola si aprì lasciando uscire una corrente d'aria fredda che fece letteralmente crollare Ida sulla sedia. Quello che aveva provato e che successivamente raccontò era indescrivibile. Lo descrisse come il male nella sua forma più pura. A quel punto l'anziana signora non aveva più la forza di fuggire né la forza di alzarsi si sentiva completamente prigioniera di quell'oggetto. In più si sentiva che la sua bocca si contorceva si afflosciava la pelle sotto gli occhi gonfiavano e si chiese se avrebbe rivisto suo figlio prima di morire. Kevin se n'era andato da meno di cinque minuti quando all'improvviso uno dei suoi nuovi dipendenti andò immediatamente ad avvertirlo che c'era qualcosa che non andava in sua madre. Infatti quando Kevin arrivò da lei era seduta sulla poltrona vicino alla scatoletta. Il suo volto era impressionante. Era praticamente totalmente inespressivo ma le lacrime le rigavano le guance e Kevin poteva vedere la paura nei suoi occhi. A quel punto Ida non riusciva a muoversi. Le sarebbe piaciuto parlare con suo figlio per metterlo appunto in guardia per proteggerlo. Avrebbe voluto dirgli di sbarazzarsi di quella maledetta scatola ma era impossibile per lei. Stava cercando di comunicare con lui attraverso i suoi occhi e Kevin riusciva a capire che lei stava cercando di dirgli qualcosa. Ida aveva capito che la scatola era davvero malvagia perché aveva sentito quella freddezza sgorgare proprio dal suo interno. Così mentre i paramedici portavano via il suo corpo quasi senza vita iniziò a pregare il cielo che proteggessero suo figlio. All'ospedale Kevin scoprì che sua madre aveva avuto un ictus. Aveva perso la capacità di parlare ma riusciva a capire ciò che le veniva detto e quando voleva esprimersi rispondeva indicando le lettere dall'alfabeto. Il giorno dopo quando Kevin le chiese come stava l'anziana signora rispose indicando delle lettere. Queste lettere formavano la parola nessun dono. Pensando che lei non ricordasse la rassicurò dicendole che le aveva fatto un regalo per il suo compleanno ma i suoi occhi si appannarono per la rabbia e le scrisse faticosamente regalo d'odio. Kevin leggendo quelle parole si mise a ridere era dispiaciuto che non le fosse piaciuto il suo regalo e le avrebbe comprato quello che voleva se avesse promesso di guarire in fretta. Come avete ben capito ancora una volta non fece alcun collegamento tra la scatola che le aveva dato e l'incidente di sua madre. Dal momento che sua madre sembrava odiare il suo regalo Kevin decise di dare la scatola a sua sorella che la tenne per una settimana e poi la restituì. Spiegandoli che da quando l'aveva portata a casa le ante di quel mobiletto continuavano ad aprirsi e chiudersi da sole. Ma non solo perché in presenza di questa scatola diceva che sentiva strane sensazioni. Successivamente consegnò la scatola a suo fratello e alla moglie che la conservarono per soli tre giorni per poi riportarla a Kevin. Ora io sinceramente non capisco questo continuare a dar via questa scatola. Forse era un modo per capire cosa succedeva e magari aveva bisogno di più conferme non lo so. Tuttavia secondo suo fratello odorava di fiori di gelsomino mentre sua moglie sosteneva che emetteva un forte odore di urina di gatto. Tuttavia dopo queste ulteriori conferme Kevin scarica nuovamente la scatola ad un'altra persona. Questa volta la sua fidanzata chiedendogli di tenerla chiusa da qualche parte tempo di capire cosa poteva farne. Lui sicuramente non poteva più tenere quella scatola. Era ovvio che tutto quello che era accaduto alla sua famiglia non era un caso. Tutti i suoi problemi erano iniziati con l'acquisto di questa scatola e forse per la prima volta iniziò a collegare i bizzarri incidenti proprio al baule. Quindi senza farsi altre domande decide che era arrivato il momento di sbarazzarsene e così la mise in vendita lo stesso giorno. E fu una coppia di anziani che recandosi in negozio l'acquistarono. Kevin era così sollevato di separarsene che non osò dire neanche diciamo per paura di spaventarli tutto quello che era successo ma comunque tre giorni dopo la scatoletta lo stava aspettando ancora fuori dalla porta. Vicino a lui c'era un biglietto con scritto questa scatola porta una strana oscurità. Non aveva idea di cosa significassero quelle parole o forse non voleva crederci ma poiché nessuno la voleva decide di portarla a casa e di riporla nel capannone. voleva comunque dimenticarsene finché diciamo non avesse trovato una soluzione. Non passa molto tempo che Kevin inizia ad avere sogni strani, incubi terribili che raccontavano sempre la stessa storia. In questo sogno ricorrente si trovava in un posto piacevole in compagnia di uno sconosciuto. Nel sogno che raccontò camminavano tranquilli e poi ad un certo punto scrutando la persona negli occhi si rendeva conto che c'era qualcosa di diverso, qualcosa di brutto nel profondo proprio del suo sguardo. Quando poi improvvisamente prendeva sembianze animalesche e lo lacerava con gli artigli. La cosa più assurda di tutto questo era che Kevin al suo risveglio si trovava sul corpo strani lividi. Notte dopo notte il sogno si ripresentava sempre più forte e Kevin si rese conto che era la scatola maledetta che le provocava tutto questo. Non sapeva darsi spiegazioni ma era convinto di questo. Qualche tempo dopo sua sorella, suo fratello insieme alla moglie decisero di passare la notte a casa di Kevin. La mattina dopo a colazione sua sorella si lamentò di aver avuto un incubo orribile. iniziò a descrivere il sogno regolare di Kevin in modo molto dettagliato. Suo fratello e la moglie rimasero congelati dal terrore mentre lo ascoltavano perché anche loro avevano avuto lo stesso identico sogno. Da lì ne seguì una lunga discussione. Ovviamente il comune denominatore era la scatola. Tutti coloro che avevano posseduto la scatola avevano avuto questo incubo quando erano a casa loro. A quel punto Kevin chiamò subito la sua ragazza per chiederle se anche lei avesse fatto strani sogni da un po' di tempo e anche lei iniziò a descrivere lo stesso identico incubo. Da quando Kevin aveva avuto quella discussione riguardo la scatola con la sua famiglia sembrava che si stesse scatenando l'inferno su di lui e una settimana dopo iniziò a vedere anche una sorta di ombra che si aggirava in casa. Cosa che fu poi confermata anche dai suoi familiari e dagli amici che gli avevano fatto visita. Una notte raccontò che l'allarme antifumo lo svegliò all'improvviso. Si alzò in fretta per ispezionare la casa ma a quanto pare non bruciava nulla. Decise comunque di aprire la porta quando all'improvviso un fetore terribile gli riempì le narici. Quando chiuse la porta scoprì con suo sgomento che l'odore si stava diffondendo in ogni stanza della casa. Arrivati a quel punto Kevin non ce la faceva più. L'ultima settimana era stata un incubo. Così stanco esce fuori e va a prendere la scatola per riportarla dentro. Inizia così a fare qualche ricerca su internet ma mentre naviga sul web si addormenta e si ritrova nello stesso incubo. Improvvisamente alle 4 e 30 del mattino si sveglia di soprassalto con la spiacevole impressione che qualcuno li stesse col fiato sul collo. La casa ora profumava di fiori di gelsomino e quando aprì gli occhi vide un'enorme ombra strisciare lungo il corridoio. A quel punto preso dal terrore ma anche dalla stanchezza quella scatola voleva distruggerla. Tuttavia non sapeva cosa e con chi aveva a che fare. Nonostante la confusione e lo spavento decide nuovamente che l'unica cosa da fare in quel momento era mettere la scatola in vendita. Questa volta però decide di metterla sul sito ebay raccontando tutta la sua storia avendo cura di non tralasciare nessun dettaglio. Kevin la descrisse come una scatola di ebook, una scatola di vino infestata nella tradizione ebraica. Questa volta non voleva venderlo senza spiegare ai potenziali acquirenti cosa gli era successo. In questo modo forse sperava di poter interessare persone che sapessero come trattare con l'occulto e che potessero disporre con piena cognizione di causa. Il suo messaggio si concludeva con una supplica che diceva se qualcuno sa come farlo allora mi aiuti comprando la scatolina e ne faccia qualcosa di giusto. Dopo una settimana notò che il suo annuncio era stato visualizzato da 7500 persone. Per Kevin non era la prima volta che vendeva oggetti su ebay ma nessun annuncio era mai arrivato ad essere così popolare. Alla fine pensò che potevano esserci più seguaci dell'occulto di quanto lui pensasse interessati proprio a tali oggetti. Infatti ben presto riuscì a trovare un ragazzo interessato ad acquistare la scatola ed è così che venerdì 13 giugno mandò la scatola al suo nuovo proprietario sperando che non ne avrebbe mai più avuto notizie. Ma a quanto pare prima di lasciare la sua casa il presunto spirito che tormentò Kevin fino a quel momento decise di lasciargli un ultimo colpo. Infatti Kevin subito dopo aver spedito il pacco tornando a casa trovò tutti e 10 pesci nel suo acquario morti. Ma la terribile storia di questa scatola non finisce qui perché ora sarà il turno di Brian il nuovo proprietario della scatola. Nel maggio 2003 quando Brian venne a conoscenza di questo annuncio era ancora uno studente. Fu Sam il suo compagno a distanza che trovò lo strano annuncio della scatola infestata e gli raccontò che il proprietario della scatola stava avendo incubi terribili e che sua madre si era ammalata gravemente dopo averla aperta. C'era una lunghissima descrizione dei fenomeni vissuti dal proprietario della piccola cantinetta e due amici erano incuriositi. Tuttavia pensando che l'annuncio fosse una sorta di scherzo di cattivo gusto decidono di lasciar perdere anche se a Sam la cosa lo stuzzicava parecchio. Infatti tre settimane dopo Brian rientrando a casa per pranzo aprendo la porta dell'alloggio dove viveva con altri studenti tra cui il suo amico Sam fu improvvisamente colpito da un insopportabile odore di urina. C'erano cartoni, vecchi giornali e scaglie di polistirolo sparsi sul pavimento. Alla ricerca del piantagrane del suo amico Brian si diresse verso la cucina e lì potete vedere che la famosa scatola infestata era proprio sul suo tavolo. Uno strano pensiero li attraversò la lentamente ma lo rispinse immediatamente. Quello strano oggetto sembrava fissarlo. Non riusciva a credere che Sam l'avesse davvero comprata. Una volta svenita alla sorpresa Brian si mise a ridere e chiese al suo compagno di stanza cosa ne avrebbe fatto. In quel momento così in tutta serietà Sam gli disse che sarebbe andato a letto con lui e Brian gli credette. Ad ogni modo Sam dormì con accanto la scatola per una settimana ma nessuno spirito o demone lo aveva mai aggredito. A volte quando la sera si intrattenevano con gli altri conquilini della casa mettevano la scatola di D-Book sul tavolino del salotto parlando della sua inquietante storia. Fu proprio in una di queste serate che accadde qualcosa di molto spaventoso. Infatti alcune delle ragazze lì presenti iniziarono ad avvertire uno strano disagio. Non riuscirono a nascondere la loro angoscia e le loro reazioni. Così i ragazzi le prendevano in giro e se la ridevano quando all'improvviso iniziarono ad accadere cose strane intorno loro. Le luci della casa iniziarono a spegnersi e accendersi da soli e tutti gli elettrodomestici cadevano uno dopo l'altro. L'Xbox, il tostapane, la tv, il cellulare di Sam e persino alcuni dei loro orologi si fermarono improvvisamente. Increduli e spaventati decidono che per quella sera poteva bastare. Così decidono di chiudere la scatola e andare tutti a dormire. Il giorno dopo quando uno dei suoi conquilini si svegliò dalla sua stanza Brian notò che aveva un aspetto terribile. I suoi occhi erano iniettati di sangue. In effetti erano quasi sanguinanti. Era spaventoso. Poco dopo l'appartamento si riempì di scarafaggi che si infiltravano dappertutto. Erano in soggiorno, nelle camere da letto, in cucina e persino in bagno. Strisciavano dappertutto. Sullo specchio, nel lavandino, sulla tazza del water. Erano assolutamente ovunque. Durante tutta l'estate e l'inizio dell'autunno Sam si sentiva sempre più solo. Si stava isolando, vedeva cose che non c'erano ma soprattutto la cosa più inquietante che stava perdendo i capelli. Tuttavia non sapeva se fosse la scatola o lo stress ma stava diventando praticamente calvo. Tuttavia da quando era entrato in possesso della scatola maledetta Sam aveva scritto le sue osservazioni sul suo blog ogni giorno. E Jason, un curatore di museo medico dell'università, era affascinato dall'oggetto. Seguiva gli eventi settimana dopo settimana e se avesse potuto mettere le mani sulla scatola avrebbe affrontato il problema da un punto di vista più scientifico. Almeno questo è quello che pensava all'epoca. Quando Sam ha rimesso in vendita la dbook box su ebay, Jason ne ha seguito l'evoluzione. Nel suo annuncio Sam la descrisse nuovamente come una cantinetta da vino ebraica infestata. Ha aggiunto che il precedente proprietario era stato sfortunato ed era stato vittima di una serie di eventi paranormali. Inoltre riferì che lui stesso era stato colpito dal destino poiché era in possesso della scatola e che i suoi capelli hanno iniziato a cadere quando aveva solo 20 anni e che poi gli esami del sangue prescritti dal suo medico non hanno mai mostrato nulla di anormale. Nella descrizione parlo anche dei cattivi odori, infestazioni di insetti, dispositivi elettronici che si erano rotti e spiegò che a volte vedeva cose grandi, sfocate e scure. Anche in questo caso furono in molti a interessarsi all'annuncio e nel giro di pochi giorni la scatola passò da un dollaro a 50. Praticamente il suo valore era improvvisamente quadruplicato. Bene, era stato proprio Jason, il curatore del museo, a scommettere i 50 dollari e determinato a vincere la scatola continuava a monitorare la vendita offrendo la cifra migliore fino a quando il 9 febbraio 2003 la scatola fu venduta per 280 dollari. Jason aveva vinto quell'asta ed era entusiasta e finalmente Sam riuscì a liberarsi di lei. Quando Jason ricevette il pacco era calata la sera e si trovava all'università nella zona del museo per sistemare in archivio alcune cartelle. L'edificio era immerso nel totale silenzio e oscurità, così prese la scatola e la portò nel suo laboratorio consapevole che Kevin, la sua famiglia e gli studenti erano stati vittime di malattie che potevano essere simili a infezioni e che quindi doveva stare attento. Dopo aver abbassato le luci accesa una lampada a raggi ultravioletti. La luce mostrava alcune macchie di cera come se fosse gocciolata una candela e pensò che la scatola potesse essere stata usata per qualche rituale specifico. Tutto quello che doveva fare era ispezionare l'interno. Jason indossò i guanti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione, poi mise la mano sul cassetto e le ante si aprirono. Considerando che la scatola poteva essere infestata si aspettava quasi una dimostrazione, ma c'era una grande calma nella stanza e nulla lo disturbò, almeno per quel momento. Infatti dopo pochi giorni dall'arrivo di quella scatola tutti i computer del museo si guastarono inspiegabilmente, costando poi loro settimane di lavoro. Ma non solo quello perché subito dopo anche le lampadine iniziarono ad esplodere e sorprendentemente quelle che erano poi più vicine alla scatola. Ad ogni modo la situazione in poco tempo degenerò e i dipendenti iniziarono a soffrire di forti emicrani accompagnate da un calo di energia e di malessere generale. Era chiaro che stavano esprimendo la loro ostilità nei confronti della scatola e Jason capì che doveva assolutamente portarla fuori dal museo. Lui era contrario al fatto di doverla portare a casa, ma vista la situazione non aveva altra scelta. La sera che portò a casa la scatola fu per lui una notte turbolenta. Jason aveva degli incubi, vedeva donne molto anziane con i capelli arruffati e gli occhi infossati nelle orbite. La pelle dei loro volti si decompose letteralmente davanti a lui e si aprì in ferite infamanti, come se la loro epidermide fosse stata completamente strappata. Poi le donne lo laceravano con le unghie e lui si svegliava di soprassalto, ma appena si riaddormentava ricominciava praticamente lo stesso sogno. La mattina dopo si svegliò sentendosi sollevato, ma mentre si bagnava il viso vide il suo riflesso nello specchio e dopo aver tirato un urlo di terrore iniziò a pensare che ciò che stava vedendo allo specchio se lo fosse creato da solo. Infatti in quel momento si ritrovò il viso completamente pieno di graffi e i suoi occhi erano rosso sangue, proprio come era capitato ad uno degli studenti. In più, qualche giorno dopo, mentre guardava la televisione con suo figlio, il bambino lo chiamò in un sussurro. Poi indicando la sagoma nera che fluttuava nella stanza, chiese terrorizzato che cos'era. Jason prese suo figlio tra le braccia e rimasero in silenzio per un momento, osservando così l'apparizione. Sembravano fiamme nere, così vennero descritte dal dottore. Jason dopo quell'episodio cominciò a preoccuparsi per la sua famiglia. Cercò di documentarsi, cercando anche cause scientifiche per la manifestazione a cui era stato vittima, ma non riuscì a trovare nulla. Nei mesi che seguirono la piccola cantinetta divenne famosa. Un giornale ebraico pubblicò un articolo sulla vendita della scatola e sui suoi presunti poteri soprannaturali. La scatola divenne così famosa e la pagina dell'annuncio pubblicato su ebay fu visitata tantissime volte. Secondo Jason c'erano almeno cinque scrittori, uno sceneggiatore e una troupe di documentaristi che gli hanno chiesto il permesso di accedere proprio all'oggetto. Ma non solo, perché anche rabbini ebrei ortodossi e intellettuali ebrei lo contattarono, offrendosi poi di svelare i misteri della scatola. Ad ogni modo alla fine fu costretto a inserire nella lista nera il suo numero di telefono e a cambiare addirittura la sua email. Decise di creare un sito web per soddisfare la curiosità di tutti e poi rilasciò anche un'intervista in cui implorava i tifosi del club di lasciarlo in pace. Qualche tempo dopo dozzine di persone che partecipavano attivamente al suo blog inviarono un'email personale a Jason attraverso proprio il suo sito web, lamentandosi di strani mal di testa, incubi e altri danni. Addirittura una persona pensava che ogni computer che appunto visitava il sito fornisse una specie di portale elettronico all'entità malvagia e che da lì potesse interferire e disturbare chiunque avesse accesso al portale. Ovviamente amici io non credo a questa teoria ma la mia faccia dopo che ho letto questa cosa era tipo così. Anche perché ormai avevo già visto e strarivisto il sito quindi insomma mi sono detta ma sì ormai uno in più uno in meno diciamo che Malchevalda tiene compagnia la famosa presenza. Vabbè sciocchezze a parte fu poi Rebecca Edery una contabile ebrea che viveva a Brooklyn e il cui padre aveva studiato la cabala che appunto poi lo aiutò proprio a decifrare il mistero di questa scatola. Era convinta che lo scrigno fosse un oggetto sacro che era stato intenzionalmente collegato a qualche tipo di entità. Per lei è stato fatto deliberatamente per uno scopo ben preciso. Inoltre credeva che per porre fine alle disgrazie la cassa dovesse essere sepolta in un cimitero ebraico e che un gruppo di uomini almeno dieci doveva formare un gruppo di preghiera. Da parte sua Jason voleva tornare alle origini della scatola magari poteva ricreare una replica e seppellire l'originale. Per lui comunque quella scatola era un rompicapo storico. La scatola era arrivata da qualche parte, era stata fatta per un motivo, ma quale? I vari studiosi ed esperti religiosi consultati ritenevano che la storia della scatola di Dibuc abbia avuto diciamo tanto successo nel periodo dove ci fu un crescente interesse per la mitologia giudaica, in particolare la cabala dall'inizio del nuovo millennio. Secondo loro i vari oggetti contenuti nella scatola misteriosa probabilmente erano fetici appartenenti ad una famiglia ebrea, poiché penni e ciocchi di capelli erano fetici abituali. Era possibile anche tuttavia che la storia della scatola di Dibuc fosse una bufala perché nella maggior parte dei racconti di Dibuc il fantasma tornava per trasmettere un messaggio, ma poi non c'era alcun indizio sul motivo per cui questa particolare scatola fosse abitata. Sta di fatto amici che anche Jason da quando era in possesso della scatola era molto stanco, iniziò ad avere problemi di salute, arrivò a pensare di aver tirato fuori qualcosa dalla scatola quando l'aveva aperta. Jason e la sua famiglia possedevano una casa di campagna disabitata e decise così poi di mettere la scatola in cantina. Probabilmente quello era l'unico posto migliore per isolarlo, l'unico modo forse appunto che aveva per staccarsi di dosso quell'energia che ormai lo stava completamente destabilizzando. Ma proprio mentre metteva la scatola nel semi interrato all'improvviso sentì il vento alzarsi nella stanza, poi raccontò che risuonarono alcuni rumori metallici ed è così che si affrettò poi a tornare al piano di sopra e andarsene. Per porre fine a questa storia Jason decise di fare un bagno per lavarsi da ogni attaccamento a questa scatola. Aveva bisogno di liberarsi e il calore e il vapore lo ringorirono ma senza accorgersene proprio in quel momento scivolò nella vasca e quasi annegò. Quando si svegliò improvvisamente venne in superficie e cominciò a vomitare una specie di muco denso. In quel momento aveva tra le mani una sostanza a lui sconosciuta ed era nel più completo stupore. Stava pulendo le piastrelle quando sua moglie bussò alla porta del bagno visibilmente sconvolta e il suo polso era coperto di pustole e vesciche insanguinate e Jason sapeva che i loro guai non erano ancora finiti ed è lì che arrivò alla conclusione che se voleva farla finita doveva tornare alla fonte e trovare Kevin Mannings ovvero il primo proprietario della scatola. Quando il telefono squillò nel cuore della notte Kevin rispose e riattaccò bruscamente infatti era spaventato che qualcuno lo costringesse a riprendersi la scatola ed era capibile. Kevin praticamente non vedeva l'ora di sbarazzarsi di quella scatola e solo il pensiero che qualcuno potesse richiamarlo per rimandarla indietro lo terrorizzava. Ad ogni modo il telefono continuava a squillare e poi alla fine decise comunque di rispondere. Jason lo pregò di non riattaccare dicendogli che aveva bisogno di parlargli che era molto importante. Dopo aver chiacchierato con Kevin per diverse ore Jason si rese conto di non essere più solo. Avrebbero infatti trovato un modo per sradicare questa cosa. Kevin quindi andò alla ricerca della famiglia che gli aveva venduto la scatola e aveva avuto qualche difficoltà a trovare l'indirizzo della casa originale anche perché quando lui si era recato a quell'asta in quella villa diciamo che l'evento era stato organizzato in una casa diversa dai proprietari. Ad ogni modo quando riuscì a trovare finalmente la famiglia riuscì a parlare anche con la ragazza. In quel momento gli spiegò alla giovane che aveva bisogno di alcune informazioni ma lei gli consigliò di andarsene ed al tono della sua voce capì che non gli avrebbe detto mai nulla. Deluso Kevin a quel punto va verso la macchina per appunto andarsene via. Quando all'improvviso sente un'altra voce dietro di lui che lo chiama e gli dice so perché sei qui. Voltandosi trova un'anziana che lo stava fissando. A quel punto gli spiegò di essere la cugina della signora a cui era appartenuta la scatola. Ma quindi questa signora era la famosa nonna della ragazza con cui aveva parlato Kevin? Ad ogni modo questa donna le raccontò che prima della seconda guerra mondiale e entrambe le donne vivevano in Polonia. A quel tempo lo spiritismo era di gran moda. Tutti organizzavano delle sessioni per entrare in contatto con l'aldilà e avevano inventato una specie di tavola ouija con una tovaglia su cui avevano ricamato le lettere dell'alfabeto. Un piccolo ciondolo fungeva da pendolo e quando facevano la domanda il ciondolo ondeggiava sulla tovaglia, scandiva le parole, rispondeva alle domande delle ragazze. Ma durante una di queste sessioni si sentirono come se fossero entrati in contatto con un diverso tipo di spirito. Questo spirito chiese loro di aiutarlo a uscire dall'oscurità, di portarlo da loro e all'improvviso si chiesero se non stessero parlando con un d-book. Le due donne hanno quindi poi seguito un rituale per sbarazzarsi dell'entità e decisero di chiuderla in una scatola. E questa scatola amici è la famosa scatola che acquistò appunto Kevin. Infatti aprendo questa scatola del vino nel suo negozio Kevin aveva proprio liberato quell'entità. Tuttavia la storia di Kevin è stata una sorpresa per Jason. Non aveva mai sentito niente di simile ma tutto questo aveva senso. Dopodiché si misero in contatto con alcuni rabbini e chiesero loro cosa fare per sbarazzarsi appunto definitivamente dello spirito. Dopo molte ricerche e preghiere la scatola di d-book è stata sigillata ancora una volta ed è ora conservata in un luogo ottenuto segreto da Jason. Successivamente Jason ha scritto un libro sull'argomento ovvero the d-book box e pare che al suo interno ci siano altri segreti riguardanti proprio lo spirito di questa scatola e la sua misteriosa storia. Bene amici la storia di oggi termina qui. Chissà magari torneremo a sentir parlare di questa scatola ma per il momento come appena accennato rimane ben sigillata e nascosta. Con la speranza che questa storia misteriosa vi sia piaciuta io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale mi raccomando come sempre lasciate un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e alla prossima ciao! Grazie! 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 Grazie!